A distanza di quasi tre anni dal crollo del viadotto Emera, l'ANAS ha annunciato che sono stati aggiudicati i lavori per la ricostruzione della carreggiata direzione Catania dell'autostrada A19. Un'opera che, sempre secondo l'ANAS, doveva essere completata entro il 2018. Invece, dall'apertura del cantiere in primavera, ci vorranno 570 giorni e 11 milioni di euro per riportare l'arteria stradale alla normalità. Senza ritardi, il nuovo viadotto verrà riaperto per l'inizio del 2020. A giudicatario della gara, il raggruppamento temporaneo di imprese Jacob SRL con Nisa Costruzioni, Bua Costruzioni SRL con sede a Catania. La progettazione del nuovo viadotto è iniziata nel febbraio del 2016, mentre la pubblicazione del bando è di agosto dello scorso anno. Il nuovo viadotto sarà realizzato in acciaio con tre campate di grande luce per uno sviluppo complessivo di 270 metri. La campata centrale, da 130 metri, consentirà di scavalcare la porzione del corpo di frana, mentre le due pile e le relative fondazioni posizionate ai margini della frana saranno dimensionate per resistere al complesso quadro geomorfologico esistente sui versanti. L'appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 30 punti al prezzo e un massimo di 70 punti alla componente qualitativa, con la finalità di valorizzare pienamente la qualità delle offerte. Per il crollo del viadotto, la procura di termini merese lo scorso luglio ha chiuso un'inchiesta con cinque indagati per omissione di atti d'ufficio attentato alla sicurezza dei trasporti. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati non hanno adottato i provvedimenti dovuti, ognuno in relazione alle specifiche competenze, pur essendo a conoscenza dell'evoluzione del corpo di frana che si era manifestata nel periodo tra marzo ed aprile del 2015, sul versante prospicente dell'autostrada A19 Palermo-Catania, ricadente nel territorio del comune di Caltoavuturo.